Emergenze in provincia, costi ospedale sisma 90 e veri emendamenti del PD alla legge di bilancio. Costi dell'ospedale di Siracusa, sisma 90, danni incendi e le altre emergenze nella provincia e nel territorio siciliano. Il PD presenterà emendamenti alla legge di bilancio e al disegno delle leggi anticipi. Non semplici ordini del giorno che impegnano vagamente il governo in un futuro indefinito, ma emendamenti veri e azioni vincolanti. Chiediamo ai parlamentari nazionali della maggioranza di firmare con noi questi emendamenti per il bene della provincia di Siracusa e della Sicilia. Queste le prime affermazioni di Antonio Nicita, senatore del PD di Siracusa. I parlamentari di opposizione non possono che limitarsi a proporre emendamenti e possono anche accontentarsi dei semplici ordini del giorno che impegnano vagamente il governo. Ad esempio due ordini del giorno da me presentati lo scorso febbraio nel Senato, proseguono in Iscita, sui rimborso per le alluvioni nel Siracusano e sul completamento dei pagamenti per il sisma 90 sono stati approvati in aula, ma altrettanti emendamenti sugli stessi temi sono stati bocciati dalla maggioranza. Mi riferisco a ferma il senatore del PD, in particolare ad alcuni emendamenti a mia firma riguardanti il pacchetto di misure per il caro mutui, il finanziamento della prima casa per i giovani, nelle famiglie a basso reddito, il credito alle imprese, la riorganizzazione delle camere di commercio in Sicilia, l'abbattimento di una parte del debito dell'ente provincia, lo sconto IVA sui carburanti per cittadini e imprese in aree territoriali caratterizzate dalla presenza di raffinerie, lo sconto per i residenti siciliani sui voli aerei e sul costo del tragattamento con autoveicolo, la destinazione di una quota dei finanziamenti Repower Europe al polo industriale seracusano. Dai parlamentari di maggioranza ci si attende invece un'azione più incesiva della semplice approvazione di ordini del giorno al fine di produrre risultati concreti rispetto a meri annunci. Nei prossimi giorni sottoporremo ai parlamentari della maggioranza eletti in Sicilia e nel seracusano gli emendamenti che il Partito Democratico proporrà su alcune questioni urgenti che riguardano il nostro territorio, conclude il senatore Antonio Nicita del PD.